Osservare per me è il frutto del verbo osservare, custodire, cioè riuscire a fare una raccolta di frutti quali la visione, il sentimento, l'incantesimo, il dettaglio, tutti quanti figli del divino. L'ispirazione fondamentalmente è un collegamento tra l'onirico e la materia, è un po' come quando il colore tocca l'acqua. L'unione tra questi due estremi è la formula della magia. Il serpente per me è simbolo di trasformazione, è il cambiare pelle, la rigenerazione, è un vero e proprio rinascimento, è la storia della genesi e anche dell'arte e come in un incantesimo ha stregato anche me. Nel mio viaggio a Milano con Bulgari ho ritrovato l'eleganza del serpente nei gioielli, omaggiando la natura e la città, esperienza magica che nutre il mio animo creativo. Grazie a tutti.